Gauche caviar. Non vengono? Non lo so, non ho niente da dire, non so quello che mi devi dire, non so cosa dirti. Ma verranno, dico. Ah, verranno. Non lo so. Questa è mia. Questa è la mia o questa? Questa è la mia. Questa è la tua. Questa è la mia. Ci hai lasciato? No, va bene, questa la bustarebbe. Dai, fammi vedere. È tanto che non ci vediamo, però, eh? È tanto che non ci vediamo. Adesso che fai delle cose con degli altri? No, no, non faccio niente. Questo si muove, è instabile, è un po' come il nostro paese, vedi? È instabile. Però la freccia che indica? Che indica? Quella cos'è? Che lato è questo? Non lo voglio sapere. È il sud? No, non è il sud. Semmai, vabbè. Ma... Non ho niente. Non so niente, veramente. Quanto gli dai tu? Non gli do niente. Quanto tempo gli dai? Sono esaurito, molto. Per ieri che foste? Ma lascia prendere. Il partito? Non ce l'aveva il partito. Ah, anche tu? No, ma tu ce l'avevi. Ma che fine hai fatto poi? Quello con la bandiera, così faceva... Ma che fine hanno fatto poi i partiti? No, non ce l'aveva il partito. Ma che fine hanno fatto le sezioni? No, però adesso è molto meglio, eh? Molto meglio, più... più... più comodo. No, perché poi tu fai... schiacci? Ma tu vuoi... Guardi che bello, guardi che bello. Questo è il modello Venezia, vedi? Modello acqua alta. Di qualcosa, perché a me non mi viene nulla. No, stavo riflettendo sul fatto che... Bobo Craxi. Noi affrontiamo sempre le emergenze, come se fossero la prima volta che accadono. Ah, è arrivata l'acqua... Bisogna chiudere l'acciaieria... 20 anni che c'è questo problema. Ah... Siamo sgovernati. Ma nel 66 quando c'è stato l'allunione di Firenze... Non c'avevo due anni... Tu stavi nel cestone... C'avevo due anni, avevo... Franco è andato a spalare il fango... No... Sì, andavano tutti i giovani romani a spalare... Pure Franco... Tutti andavano a spalare il fango... Questi... Adesso arrivano... Stanno arrivando... Ce li riportiamo... Stanno arrivando... Riporti... Dai, prendi... Prendiamo... Lo scappiamo... Io vado di qua... Tu vai di là... Io vado di qua... Vado dall'inceneritore... Va bene, ciao... Gosto caviar...